Se sogni un viaggio avventuroso, se ami il mistero e sei affascinato dall'ignoto, allora viaggia con Trenitalia. Trenitalia. Non importa se fai mille chilometri o se sei un pendolare, nel tuo viaggio ci sarà sempre tensione, adrenalina e il tuo cuore batterà come non ha mai fatto prima. Nessuna informazione, nessun annuncio, niente spiegazioni, per non rovinarti il gusto della sorpresa finale. Scusi, capotreno, questo ferma a Viareggio? C'è il solo modo per scoprirlo. Sali! Ma scusi, io... Per te, che ami l'ignoto, c'è Trenitalia.